Insieme, uno mattino in famiglia che propone il medio della recendenza italiana nell'ambito dei conservatori. Questa mattina con noi il duo dell'istituto pareggiato di Agrigento, ragazzi, condizionate con Agrigento. Cosa ci proponete, ragazzi? Stituto francese del Novecento, Pierre Petit. Ragazzi, vi invito ad accomodarvi da questa parte, perché c'è questa tarantella che si mischia la Sicilia. Con la Francia, il duo di chitarra dell'istituto pareggiato Arturo Toscanini di Agrigento ci farà ascoltare Tarantella di Pierre Petit. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.